Cambiamo completamente discorso, la vicenda della realizzazione dell'impianto sempre nelle nuove industriali di Avezzano della Sastre, un impianto per il trattamento dei rifiuti. Io ritengo che le valutazioni che sono state fatte dalla nostra amministrazione non sono state fatte da altre amministrazioni. Purtroppo lo devo dire perché gli unici che abbiamo fatto ricorso nei confronti della Sastre SRL è l'amministrazione di Pangrazio con il ricorso dato 7-6 del 2016. Mi costa che la Sastre, sono atti che chiaramente conservo gelosamente e in virtù della morbosità che ho nei confronti degli atti, chiaramente ho un report che parte dall'8 luglio del 2009 in quanto in quella data, luglio 2009, mi sembra che amministrava qualche di un altro e da quella data mi sembra che la Sastre legittimamente. È un imprenditore, la legale rappresentante chiaramente ha avanzato la sua richiesta di poter accedere nel suo territorio. Qui una tirata d'orecchia la faccio a me stesso ma la faccio a tutti gli uffici, gli uffici perché dal 2009, 2010, 2011, 2012 siamo stati bypassati di atti, chiaramente si arriveranno alla fine del 2013 con atti che vengono mandati e che non vengono assolutamente sollecitati e portati alla visione non solo di chi parla ma anche degli assessori all'ambiente che si sono succeduti. Basterebbe vedere questo semplicissimo report dall'attenzione molto probabilmente vi erano dei dirigenti poco solerti, ma questo non vuol dire niente perché ognuno si dovrà prendere le sue responsabilità. Dirigenti del Comune? Beh, dirigenti del Comune e del settore ambiente. Tant'è vero che quando ce ne accorgiamo, non è mai troppo tardi per accorgersene, che cosa facciamo? Facciamo le nostre osservanze, le potevamo fare esclusivamente davanti al Tarra e quindi davanti al Tarra Abruzzo è stata fatta, è stata sollecitata. Io dico che nel momento in cui la Sast, che è un'impresa che ha il suo interesse a insediarsi nel territorio e ha una sua ingerenza stessa sul territorio per la trattazione di prodotti se non sbaglio medici, nel senso che è un front office ad accontornare determinati prodotti chiaramente scaduti, chiaramente da dover destinare poi a una successiva azione di stoccaggio e molto probabilmente qualcuno doveva stare più attento anche in Regione, perché in Regione io non voglio dimenticare, ma abbiamo 4-5, oltre un Vicepresidente, ma abbiamo anche 4-5 consiglieri di tutte le parti, bipartisan, abbiamo dalla sinistra, dal centro-sinistra, destra, centro-destra e abbiamo il Movimento a 5 Stelle, quindi potevamo essere tutti quanti più accorti ed impedire che sostanzialmente questa società, che io la vedo molto collaterale a un'altra società che era in fieri, che sarebbe dovuta arrivare, ma grazie a Dio e grazie anche a molte altre e tantissime persone da cui lei non è per il momento arrivata. Vedo che ha capito perfettamente. Questa società che è il tipo di rifiuti tratta? La società Saste, almeno per la sua natura giuridica, per quanto registrato e che è a conoscenza sia del Comune sia da parte del sottoscritto, deve e dovrebbe trattare, uso il condizionale chiaramente il dobbio, prodotti ospedalieri, chiaramente, per uno stoccaggio di questi prodotti ospedalieri, tutti i prodotti ospedalieri, ma è una fase di stoccaggio, imballaggio e chiaramente trasferimento presso altre sedi, dove molto probabilmente ci sarà poi la decontaminazione e sistemazione di queste materie che andrebbe a trattare la Saste. Prima parlavo mi sembra di un ricorso altato da parte dell'amministrazione che mi faceva parte, che anno era? 7-6-2016. 2016, quindi ancora in itinere? Sì, in itinere, ma è stata rigettata chiaramente la sospensiva e mi sembra che siamo nella fase di merito, ma non essendo più amministratori, chiaramente, quando uno perde la carica perde anche la formale conoscenza di queste circostanze. Ha parlato anche di scarsa attenzione da parte degli uffici comunali su questo? Di tutti, prendendomi le mie responsabilità in primo luogo, ma non posso sottacere le responsabilità di tutti quanti, perché le attività che sono state espletate partono dal 8 luglio del 2009, mi sembra che siano convolte ad oggi due amministrazioni in toto, ma soprattutto di queste amministrazioni vedo anche altre persone che facciano parte di questa amministrazione, quantomeno metterci la faccia e fare ricorso al TAR per provarla fino in fondo, qui come dire calcisticamente fino alla fine. Allora, quindi oltre, da quello che mi dice adesso, oltre agli uffici ci sono anche ritardi la parte dell'amministrazione di credibilità, l'amministrazione politica della città? Ma io non piace parlare male, oggi c'è De Angelis, parlare male di De Angelis, prima c'era Di Pangrazio, parlare male prima di Di Pangrazio, purtroppo su questo devo essere chiaro, l'ufficio ambiente e l'ufficio verde avevano semplicemente nel momento in cui ho cessato la carica, quattro sbarra cinque dipendenti, sbarra sei, dico i due erano in malattia, ma poverini, se erano in malattia certo non si stavano a divertire. L'ambiente è l'aspetto che tutti quanti noi, da quando ci alziamo la mattina, presto o tardi che ci alziamo, lo vediamo e lo controlliamo. È l'immagine anche di una città, una città evoluta come Avezzano che grazie all'amministrazione di Pangrazio, lo ricordo, grazie all'amministrazione di Pangrazio è al 70% della differenziata. Ha un contratto ad hoc in questo momento con la società che se l'ha giudicato. Ma può andare, poteva andare avanti con quattro unità questo servizio, che è ricomprensivo anche del verde? Capite che non poteva andare avanti, non poteva correre dietro a determinate circostanze, a determinate cose e quant'altro. Un ringraziamento particolare lo faccio a chi chiaramente ha collaborato con me in quel momento critico, fortemente critico, cercando di evitare quello che si è potuto evitare, almeno su questa vicenda. Poi vedremo se l'attività della Saste la porrà in essere, poi vedremo se la Saste avrà tutte le autorizzazioni, poi sarà questa amministrazione che dovrà effettuare i controlli attraverso i canali opportuni e necessari, quale la polizia locale, quale i NAS e quant'altro per vedere se effettivamente svolgono questo tipo di attività, come la svolgono e se la svolgono nelle città. Ma sono convinto che se la Saste ha le autorizzazioni può ben operare su questo territorio, ma bisognerà vedere poi chiaramente da qua al futuro quello che effettivamente voleva fare la Saste. La Saste sorge in un posto molto particolare di questo territorio, a ridosso dell'ex zuccherificio di Avezzano e qua sono costretto a fermarlo.